E' semplice ma anche basta. Chi sei e che cosa fai? Allora, io lavoro per Google Italia, quindi nel team di Google, e sono responsabile per lo sviluppo delle partnerships in Italia, partnerships commerciali o di tecnologia. Cosa vuol dire innovazione e come si fa ad essere innovativi? Innovazione è un termine ovviamente vastissimo, sta cambiando tanto con i tempi, soprattutto in un ambiente, in un'industria tipo la nostra, l'innovazione è un concetto molto ampio. Oggi significa sicuramente comunicazione, tantissimo con, nel caso nostro, gli utenti della rete, gli internauti, perché alla fine i successi di Google, come di altre aziende nell'internet, sicuramente dipendono dalle esigenze, quindi da quanto siamo disposti noi ad ascoltare i nostri utenti. Cosa dovremmo fare in Europa per favorire questa innovazione? Domanda difficilissima, allora, c'è bisogno di flessibilità. L'internet permette già a livello tecnologico la flessibilità. Quello che è più difficile magari in Italia, in Europa, che negli Stati Uniti o in altre nazioni, è la flessibilità anche amministrativa per lanciare una nuova iniziativa commerciale, eccetera. Quindi indubbiamente lavorare su quella parte burocratica che rallenta i processi è fondamentale. Poi dare più empowerment, come dicevano nella conferenza, è anche importante, perché qualunque dipendente di qualunque realtà piccola o grande deve sentirsi comunque pronto per innovare e deve sentire il potere di fare la differenza all'interno dell'azienda. Grazie. Prego. Ciao. Grazie. 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 Grazie.